Oh Dio, ti ha fatto stare male, ti senti bene? Sto bene, sicura? Sì, sto bene Che carine, oh mio Dio! Ragazze, diteci! Ragazzi, dai, no! Non metto, che stai facendo? Io non stavo neanche registrando Sicura che è tutto ok? Sto bene Dovrei vomitare anch'io, ho mangiato troppa pinza E la canna che la fa stare male Ehi, è questo il ripostiglio in cui si è impiccato quel passo? No, quel ripostiglio è nello studio di mia madre Ce lo faresti vedere? Cazzo, sarebbe figo! Dov'è che si è impiccato? Si è impiccato dietro la porta No, tu sta ferma, no! Mi chiama terapia a disposizione! Ragazze! Oddio! No, ma se si fa la finita! Non è divertente! Non frignare, rilassati! Mi prego! Mi prego! Mi prego! Cosa è successo? Dentro c'era qualcosa! C'è bene? Oh mio Dio! Dentro c'era qualcosa! Lo sta facendo la vittima !